eccoci anche oggi è giovedì ho trovato un piccolo porcino moro di castagno purtroppo nonostante sto scandagliando un po il bosco da un paio d'ore tanta muffa c'è nascita di altri funghi ma non si trova nulla speriamo di trovarne qualcun altro è molto piccolo quindi insomma un bel gambo eccolo qua ciao ciao a dieci minuti dove ho trovato il porcino moro prima ora mi sono incappato qui in questo incavo di castagno e guardate 1 2 e 4 meglio guardarci in giro perché probabilmente qui qualcosa c'è speriamo vi aggiorno